La strada dell'elite La residenza è situata al primo piano di un palazzo storico e signorile. Si apre con un elegante ed accogliente reception, dove diamo il benvenuto ai nostri ospiti in un'atmosfera assolutamente familiare. Le nostre quattro stanze, tutte indipendenti, sono progettate ed arredate con grande cura nei dettagli. Luminose e confortevoli, sono ideali per una vacanza rilassante e nel rispetto della privacy. La zona è silenziosa, tranquilla, ma anche centralissima, nel quartiere più caratteristico e storico di Roma, il rione Monti, il più esteso e il più antico di Roma, dove è possibile trovare non solo testimonianze che coprono secoli di storia, ma anche innumerevoli caratteristici locali per trascorrere piacevoli serate. La residenza Domus Real Cardello si trova nelle vicinanze dei posti più belli e ricercati della città eterna. Con una piacevole camminata, e da poca distanza, troviamo Piazza Venezia, Largo Argentina, Piazza Navona e Fontana di Trevi. Inoltre, è possibile cogliere nei dintorni le bellezze degli edifici storici della Roma Rinascimentale, come ad esempio San Pietro in Vincoli, le chiese di Santa Susanna e di Santa Andrea della Valle e la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il nostro personale sarà lieto di fornire ai propri ospiti informazioni sulla città e sugli itinerari turistici. Grazie a tutti.